Grazie a tutti. Dissonanze e concordanze oltreleita, però per motivi di tempo mi limiterò a una dissonanza e a una consonanza. La dissonanza è data dall'idea di nazione, però non l'idea di nazione, quale circola un po' troppo spesso e neanche da poco tempo, e cioè che vede nell'area dell'oltreleita semplicemente un croggiuolo di nazionalità, un calderone di lingue, un luogo dove si mescolano razze e culture. Allora, questa visione può essere sostenuta dal punto di vista puramente descrittivo e dall'esterno, ma non coglie l'esattezza di quell'area. L'oltreleita è la parte orientale della monarchia sburgica. La leita è un piccolo fiumiciatolo sul cui corso per alcuni tratti correva il confine fra le province rappresentate a Reisrat, quella che viene chiamata l'Austria, ma che dal punto di vista del diritto costituzionale non era Austria, e la parte orientale, appunto il regno d'Ungheria. Ma ho preferito appunto parlare di oltreleita perché il regno d'Ungheria presenta anch'esso le caratteristiche che ritroviamo nella monarchia nel suo insieme. E qui uno dei criteri d'orientamento della vita quotidiana e politica e culturale delle persone è data dall'idea di un'appartenenza culturale e linguistica che noi chiamiamo nazione. Potremmo chiamarla più esattamente comunità culturale. E veniva vissuta in maniera veramente non problematica. Come si accorge chiunque ad esempio venisse in Alto Adige e vedesse come la distinzione fra le due lingue, cioè fra i due gruppi, fra le due comunità, avviene in maniera del tutto naturale, con campi di socializzazione che raramente si intersecano. E anche quando lo fanno, lo fanno però secondo delle regole non scritte che impediscono che si arrivi ad un vero e proprio conflitto. Dico questo perché l'avanguardia ungherese giustamente tiene conto e valorizza l'aspetto nazionale. Come? Ci arrivo subito. Prima soltanto qualche informazione generalissima. Il primo raggruppamento che può definirsi di intenzione o di programma avanguardista, benché non venga usato questo termine, si costituisce nel 1907. e il suo nome è Mienk, che è un acronimo, e significa il circolo degli impressionisti e dei naturalisti ungheresi. Mienk, detto en passant, è anche una parola ungherese che significa nostro, è affare nostro, ma forse è stato un caso. Comunque questi pittori si erano formati quasi tutti in Francia e questo può essere stato per loro anche un stimolo a presentarsi nei confronti dell'opinione pubblica come un gruppo, secondo quella usanza, diciamo così, francese, a volte positiva e a volte anche portatrice di grandi stranezze, per cui l'intellettuale agisce all'interno di un circolo di intellettuali ai suoi pari. Questo Mienk aveva un atteggiamento nei confronti dell'arte ungherese, allora maggioritaria, polemica, ma raccoglieva anche alcune personalità che da quell'arte si erano staccate molto lentamente, così che in una logica perfettamente naturale nell'ambito di movimenti, fra virgolette, rivoluzionari, presto si stacca dal Mienk un gruppo ancora più radicale e sono i cosiddetti otto, perché sono otto? Agnolzac, gli otto. Nel 1909, che diciamo non tanto casualmente si riallaccia ad eventi nel campo dell'avanguardia europei, le mostre di Picasso, il futurismo in Italia, eccetera. Ci sono delle conoscenze di quel che sta avvenendo ovviamente in Francia e in Italia, stranamente i legami con la Germania sono molto minori. Questo gruppo dei Gnolzac poi, successivamente, ma di questo non parleremo perché non c'è modo, passerà ad una fase ancora più radicale nell'esperienza dei cosiddetti Activistak guidati da Lajos Karsak, che forse è una delle personalità nell'arte magia di questo periodo più note. Curiosamente poi l'esperienza del gruppo iper-avanguardista, cioè quello degli Activistak, verrà soppresso proprio durante l'esperienza di Bela Kuhn e la Repubblica dei Consigli nel maggio del 1919. Bela Kuhn li definirà ovviamente dei decadenti borghesi, dove decadenti è il sostantivo. Ma ritorniamo ai Gnolzac, che si costruiscono nel 9, dicevo, fanno la loro prima mostra nel 9, nel dicembre, e continuano un'attività di gruppo, diciamo, esponendo insieme, fino al 13-14. Poi la guerra ovviamente li divide, al tema della guerra non ci sarà una ricomposizione, anzi, molti di questi taglieranno i rapporti anche personali. Ora, questo gruppo aveva la caratteristica più ancora del Mienk e direi più lucidamente di quelli che sono venuti dopo, gli amici di Kashak e degli Activistak, nel quale comunque confluiranno anche un paio degli otto, aveva un programma più chiaro, più lucido e per questo ha attirato anche di più l'attenzione di chi ha studiato, diciamo, l'avanguardia ungherese. I loro, sono tutti otto, pittori molto, direi, si possa dire, molto dotati, c'è, credo, insomma, del buon talento, anche se non hanno seguito un corso di studi molto regolare. Si sono andati, giovanissimi, alcuni anche a piedi, a Parigi e lì hanno, non so come abbiano fatto, perché mi pare quasi strano, ma insomma, resta il fatto che sono riusciti a entrare in alcuni atelier parigini e poi a girare in alcuni di questi e sono tornati poi in Ungheria con un bagaglio anche di conoscenze tecniche che ha permesso loro di definirsi con buonissimo titolo pittori. Accanto a loro, però, c'erano anche, per così dire, dei critici d'arte e un gruppo, diciamo così, fra virgolette, intellettuali della penna, della teoria, che hanno aiutato questi otto appunto a presentarsi non solo come un'espressione artistica ma proprio come un programma di, devo usare anche io questo termine, è stato usato tante volte questa mattina, ma questa loro sarà una sonanza, di rigenerazione della società ungherese. Non era semplicemente, insomma, non si trattava soltanto di un scatto in avanti dell'idea artistica ungherese, ma di un tentativo di rifondare la società ungherese nel suo complesso. Ma, quando parlo di società, non mi riferisco tanto alle classi di cui alcuni parlavano e non mi riferisco neanche alla società intesa come cittadinanza, vale a dire quelli che si trovavano a vivere nel Regno d'Ungheria avevano un passaporto ungherese, perché l'Ungheria emetteva il suo passaporto, ma la nazione ungherese, cioè la grandezza verso la quale questi pittori sentivano di essere in debito di responsabilità, sentivano di dover dire una parola di rigenerazione, era la nazione. È una delle caratteristiche che emerge in maniera più ricorrente e anche più lucida negli scritti di Fulep Loyos, che è stato appunto direi quasi l'ideologo se questo termine potesse destoricizzato. l'ideologo riteneva che l'opera d'arte alla pari di qualsiasi altra produzione umana non potesse sottrarsi alle coordinate dello spazio e del tempo. L'opera d'arte quando è valida è perfetta e quindi è fuori dal tempo, vale per sempre. però dall'altro lato noi non possiamo concepirla se non fatta in quel tempo preciso in cui è stata fatta. Certamente Giotto viene ammirato 800 anni dopo la sua morte e verrà probabilmente ammirato per gli 800 anni a venire. Tuttavia la sua pittura che salta i tempi è specifica di quell'epoca. Lo stesso dice Fulep vale per la determinazione spaziale che si incentra si incardina sulla nazione e così come sul piano temporale se non ci fosse una continuità ci sarebbe soltanto una successione ma non un discorso così anche sul piano spaziale quello che si pone al di fuori della nazione verrebbe ad essere soltanto una compresenza ma non una continuità tuttavia questo discorso che io adesso purtroppo devo restringere in due proposizioni non significa in nessun modo che Fulep fosse e con lui Giotto fosse un nazionalista cieco gretto e meschino come spesso vengono presentati coloro che ammettono pubblicamente i loro debiti verso la comunità culturale di cui fanno parte Fulep Fulep si è preso più e più volte gioco di quegli ungheresi che ritenevano che soltanto un prodotto ungherese fosse valido e soltanto un prodotto che usciva da mani ungherese meritasse il titolo di ungherese Fulep metteva benissimo in chiaro che non bastava che un ungherese facesse un quadro per potersi parlare di arte ungherese in molti pittori ungheresi diceva Fulep non esce l'arte e in molte diciamo espressioni artistiche valide non sempre si rileva il carattere ungherese adesso è chiaro che si apre qui una grande questione tutte strozzate perché a quest'ora non possiamo che strozzarle come come è da intendere questa presenza di un carattere nazionale come si manifesta qui una descrizione puntuale diciamo così di un carattere nazionale forse anche quello maggioro nel caso di Fulep probabilmente è difficile così come è difficile descrivere esattamente da un'espressione facciale un sentimento però però c'è secondo Fulep forse corrisponde anche in parte al vero c'è una consapevolezza che anche se non si esprime permette di ricostruire quei discorsi cioè quella continuità nello spazio del tempo che Fulep postulava la esposizione dei Gnolzak avvenuta nel ripeto nel dicembre del 9 ebbe un critico d'arte diciamo così d'eccezione perché l'ex primo ministro ungherese cioè Tissa Istvan fece un appunto un articolo sulla sua rivista non sua ma dell'area culturale a cui si riferiva lui cioè osservatrice il figlio all'e l'osservatore e poi Tissa di cui adesso dirò Tissa poi divenne però questo voglio aggiungere primo ministro anche dopo e come sappiamo fu lui per parte ungherese che acconsentì alla dichiarazione di guerra nel agosto del 14 e poi restò primo ministro fino al 18 Tissa era l'esponente diciamo così di un'area conservatrice in Ungheria ma non era neanche lui uno sproveduto e anzi nel campo artistico aveva dei gusti abbastanza notevoli comunque a me pare interessante la critica che fece Tissa perché raccoglie sia pure all'altro capo del filo l'idea di Fulap vale a dire riconosce l'importanza straordinaria dell'arte nella vita della comunità culturale Tissa non fa una recensione dove l'arte è fine dell'arte ma pensa a quali conseguenze questa esposizione potrà avere per la disposizione spirituale della comunità ungherese e trova che a parte la caduta di gusto ma Tissa non era l'unico che riteneva che una spinta dall'impressionismo fino alle sue estreme conseguenze poteva comportare una perdita di abilità tecnica nel pittore visto la svalutazione della forma che questo comportava ma questo è un discorso laterale quello che invece preoccupava di più Tissa era che vedeva già in questa prima esposizione di Gnolzac la interruzione di quella crescita organica della nazione della comunità culturale io quando parlo di nazione intendo evidentemente una grandezza che si può postulare in termini positivi vedeva nella crescita organica della nazione una sua capacità e una sua possibilità di successo storico mentre Gnolzac ritenevano che questa affermazione della nazione nella storia non su altri popoli non su altri territori ma nel suo sviluppo morale potesse anzi in certi momenti storici richiedesse una rifondazione rivoluzione rigenerazione e dovesse scrostarsi di quello che nel cammino si era venuto abusivamente aggiungendo e questo poi era anche il fine di questi quadri esposti nel nove cioè scarnare ritenevano i Gnolzac la realtà di tutti quegli elementi convenzionali e conformistici che i pittori erano venuti assumendo prego sono troppo vicino che erano venuti assumendo almeno nel decennio precedente una rivoluzione una responsabilità nei confronti della comunità nazionale in questo periodo e quando si parla di avanguardia in Ungheria evidentemente il posto d'onore spetta ai pittori come anche in altri paesi europei e anche questa è un'assonanza però c'è una parte di cultura ungherese che si allinea a questo discorso dei Gnolzac e che ha diciamo così espresso anche delle personalità direi io di livello europeo se la cultura ungherese non fosse considerata una cultura piccola e in letteratura ad esempio è il caso di Odi Endre la mostra dei Gnolzac del dicembre del 9 si intitola Ui Kepak nuovi quadri in calco al libro di Odi Endre Ui Versheck versi nuovi che era stato pubblicato l'anno prima ma anche in musica abbiamo dei riflessi di questo movimento e in Bortok Bela che era dei Gnolzac buonissimo amico allora in Bortok Bela noi vediamo la concretizzazione del pensiero di Fulop perché in questo periodo come sappiamo credo Bortok stava svolgendo una serie di indagini di folklore musicale in tutta l'area centro-europea che lo avevano portato dei risultati per lui stesso sorprendenti si era accorto per farla molto breve che in area centro-europea succedeva questo che in una lingua in una comunità linguistica e culturale visto che lingua e cultura direi che sono sinonimi benissimo un canto nato all'interno di una comunità linguistica e culturale veniva ripreso da un popolo che abitava diciamo nelle vicinazioni con cui era contatto ora questo popolo prendeva prestito il canto la musica e il testo adattava la musica alla musicalità della propria lingua alla propria prosodia e ne usciva un canto a volte anche notevolmente modificato ma cosa succedeva fin qui niente di eccezionale ma Bartók trovava che nella sua concreta rindagine sul campo che questo canto poi ritornava al popolo di partenza alla nazione di partenza il quale non lo riportava nella sua versione pura ma aggiungeva a sua volta dei cambiamenti che praticamente costruivano su quanto aveva creato la comunità che aveva preso a prestito il canto e la musica allora si vede qui dicevo concretamente il pensiero di Fulep che ho cercato di ennucleare prima in brevissimo e cioè quel che permette una fruttuosa ricezione culturale è l'appartenenza ad una comunità linguistica al di fuori della quale ci si precluderebbe la possibilità di progredire anche tramite eventuali contributi delle lingue e delle culture vicine ecco purtroppo mi devo fermare ma poi purtroppo per me dico perché ho cosa dire per voi che andate a mangiare e come no però poi pubblicheremo gli atti fatto sta che e beh chiudiamolo con questa nota il programma dei Gnolzac quindi era di una possiamo dire ambizione quasi quasi titanica insomma direi smisurata si trattava di dimostrare le possibilità di rinnovamento morale tramite l'estetica della comunità culturale ungherese facendola diciamo così avvicinare all'impatto che la modernità produceva un po' in tutta Europa ma anche in Ungheria a questo punto si poteva dire a Gnolzac Hik Rodus Hik Salta bisognerà vedere come sono riusciti a svolgere un compito di queste dimensioni grazie per l'attenzione grazie a Davide Zaffi se c'è una domanda Maurizio Scudiero prima non ti volevo interrompere avevo fatto segno a Orlandi per il gelato spero che quando ci saranno liati si vedano anche i quadri perché sarebbe più facile voglio dire questo più che una domanda il tuo intervento mi ha dato occasione per un pensiero che in parte va a contraddire Libardi ma lo completa cioè tu hai parlato della localizzazione ben precisa e quindi voglio dire la guerra non è vero che ha chiuso le avanguardie perché paradossalmente questi nuovi stati del centro Europa nasce l'avanguardia in quel momento lì Jugoslavia che non esisteva prima arriva il gruppo zenitista appunto ma nasce su basi letterarie non su basi pittoriche perché tutte queste avanguardie ruotano attorno delle riviste cioè quindi zenit in Jugoslavia a Belgrado poi ci sarà appunto Ma di Lajos Kaczak che però poi si delocalizza a Vienna ci sarà in Romania con tipo Ranul e in Polonia ci sarà questo fantastico gruppo che ruota attorno alla rivista Block e quindi la delocalizzazione e la delocalizzazione sono importantissime mi sembra da un punto di vista puramente storico perché da un punto di vista artistico contraddirti mi fa tremare le vene e non lo faccio ma dal punto di vista storico gli ungheresi non ritengono che l'avanguardia prosegua dopo la guerra e effettivamente l'esperienza di Gnolzak come detto prima si chiude nel 18 a detardi chi prosegue chi prosegue lascia l'Ungheria e a quel punto la situazione cambia veramente i dati di fondo bello grazie a tutti